bella ragazzi sfide passione pia settimana 4 ultime sfide settimanali sfide e sfide settimanali suddivise come sempre in fasi questa classica divisa anche in fasi che ci dice di effettuare un quantitativo di danni col fucile d'assalto quindi scar vamp bisogna raggiungere il quantitativo richiesto dalla missione sia in prima fase che seconda fase che in terza fase andrà sempre ad aumentare inoltre ad aggiungere tutto quantitativo che mi sembra che è 1.000 2.500 in seconda fase e 10.000 in terza missione bene che completata ragazzi spero come sempre che il video vi sia stato utile e bella